e questo è uno show speciale dedicato a un brand che abbiamo lanciato a livello internazionale proprio noi che ho visto Italia, un brand made in Italy di una gioielleria di altissimo livello che rende il lusso personalizzato portiamo con noi i nostri sentimenti, i nostri valori, portiamo con noi la nostra vita con Duo per parlarci di questo brand non c'è solo un'amica che è Project Manager ma è la cofondatrice di questa idea geniale che è un brevetto registrato in 143 paesi nel mondo Letizia ben ritrovata, era un sacco di tempo che non tornavi con tu eh lo so, Duo richiede sempre tanto tempo ma... anche di preparazione, di direzione però si fa perdonare bene perché abbiamo due novità assolute vi diamo un'anticipazione ora, so perché Letizia mi ha detto che dai social questa collana sta già creando